Ancora no, non è un posto, non è un gruppo appalante qui. Non lo volevano vedere che ha pagamento un racconto. No, è il risidente. Come fai a sapere se sei residente? Sì, ma non è tanto. Devi presentare. Cosa c'hai? C'è l'accessoria. Poi avete da presentare qualcosa per sapere che sei residente. No, come fai se c'è la metterista se c'è? Non c'è la metterista se c'è. Ma i miei valli fuori, a Coly, a Robella! Come fanno i miei valli poi.... Grazie.